Nelle ultime 24 ore il team di soccorritrici e soccorritori di Medici Senza Frontiere a bordo della Giovara ha effettuato due operazioni di soccorso. Ieri pomeriggio abbiamo soccorso un gommone che viaggiava già da 14-15 ore e le persone a bordo erano stremate. Ora abbiamo 164 persone a bordo, tra cui 14 donne e 50 minori non accompagnati, tra cui due bambini di 10 e 12 anni. Il più piccolo di loro viaggiava da solo e quando l'ho presa anche dal gommone ci ha subito raccontato in lacrime di star viaggiando con suo fratello, il quale però non è riuscito ad imbarcarsi i libbi anche lui. Quindi anche a bordo, nella disperazione e nella difficoltà di questo viaggio, ci ha raccontato che in questo momento si trova da solo e non ha contatti con nessuno dei suoi familiari. Le persone adesso sono con noi e stanno ricevendo le prime cure mediche, psicologiche, ma anche bene di prima necessità, come un pasto caldo dell'acqua, la possibilità di farsi delle docce, di cambiarsi i vestiti di dubbi di acqua e di benzina. Nelle prossime ore continueremo a stare in questo tratto di mare, nell'eventualità in cui ci sia qualcuno che ha bisogno del nostro aiuto in quella che sappiamo essere la rotta migratoria più mortale al mondo.